Silvia, Sofia e Alessandra sono le tre studentesse premiate con le borse di studio dagli istituti Santa Paola. Hanno scelto di studiare Restauro a Mantova, provenendo rispettivamente da Bari, Milano e Siena. Una prova nella prova nel primo anno di Restauro, che le ha viste prima con il lockdown forzatamente a casa e la didattica online. Poi dal 18 maggio nei laboratori, in elezioni, in presenza, con il peso di molteplici dispositivi di sicurezza e la volontà esaudita di portare a termine il monte ore annuale. È stato più difficile, probabilmente, gestire tutto da casa, perché dovendo fare comunque tanta parte pratica, perché appunto il corso si basa soprattutto su questo, siamo riusciti a fare la parte ovviamente teorica, soprattutto abbiamo gestito gli esami scritti, orali, e poi appunto dopo due mesi siamo riusciti per fortuna a tornare e riuscire a comunque recuperare gran parte delle lezioni pratiche. Anche per me è stato un periodo abbastanza impegnativo nel ritornare qui all'università per comunque proseguire il corso, in particolare tutte le materie pratiche che devono essere intreprese in laboratorio. Attraverso l'utilizzo di tutta l'attrezzatura di protezione, quindi schermi, tute, mascherine, siamo riusciti comunque a lavorare in armonia, però mantenendo sicurezza per quanto riguarda l'aspetto del Covid. Durante il lockdown abbiamo gestito ciò che ci rimaneva del percorso prettamente teorico tramite gli esami online, quindi fortunatamente siamo riusciti a tenere il passo. Poi abbiamo ricevuto la notizia verso metà maggio che saremmo riusciti a tornare per completare tutte le ore di lezioni pratiche e almeno per come l'ho vissuta io è stato molto, diciamo, abbiamo avuto una possibilità che molti altri non hanno avuto, quindi da questo punto di vista siamo state molto fortunate. Abbiamo fatto tutta l'attività in presenza con le ragazze del corso di laurea e anche con la triennale perché hanno l'obbligo per legge di effettuare le attività laboratoriali in presenza e quindi tutti i giorni l'attività didattica si è protratta per 7 ore al giorno, chiaramente con le disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e quindi con il distanziamento, con il sovracamice, con le mascherine, le visiere, il copricapo e la sanificazione giornaliere di tutti gli ambienti e di tutte le attrezzature. È un corso che in una città come Mantua, no, al restauro e conservazione dei beni culturali sia fondamentale perché ovviamente siamo una città d'arte, siamo una città di cultura con tantissimi, un patrimonio architettonico notevole, siamo stati e siamo tuttora una capitale della cultura, quindi credo che questi ragazzi abbiano un futuro sicuramente di un impegno lavorativo importante e utile anche per il nostro territorio. Don Antonio Bottoglia ha cent'anni e quindi i cent'anni dovevamo celebrarli, celebrarli è voluto dire accendere un'idea di fare un'altra borsa di studio.